Luigi che mangia? questa volta abbiamo un po' più di luce per fare i pesi che si vengono un po' azzurri come si vengono è stato un po' più riuscito per farlo vediamo se riesce a prendere un'altra rampa ecco il divo è un fastidio se ne arriva con la pappa ecco 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 Ah, va bene.